ciao a tutti oggi vediamo come esportare una composizione da after effects in formato mp4 il formato mp4 è solo uno fra i tanti formati che possono essere esportati da after effects ma sicuramente è il più popolare è il più diffuso in internet è quello che più comunemente si usa per visualizzare i video sui computer sui tablet e sui cellulari il formato mp4 d'altro canto non è quello che va bene per qualsiasi situazione per esempio se dovete esportare la vostra animazione grafica e poi questa animazione grafica deve essere integrata all'interno di un montaggio video in questo caso non esportate nel formato mp4 ma in un formato di qualità superiore magari non create nemmeno un video magari una sequenza di tiff o di png bene ora prima di lanciare l'esportazione vi faccio notare un paio di cose innanzitutto la dimensione finale e la risoluzione finale non dipende dall'ingrandimento con cui è impostato il monitor in after effects cioè questo 50% che vedete qua che è metà della grandezza del video non viene tenuto in considerazione durante l'esportazione cioè il video sarà comunque al 100% della sua grandezza effettiva stessa cosa l'impostazione della risoluzione con cui io visualizzo il video in after effects che nel mio caso è alfa a metà risoluzione nello stesso modo non viene preso in considerazione comunque il video verrà esportato alla massima risoluzione quindi non preoccupatevi di queste due impostazioni qua dimensione e risoluzione non vengono presi in considerazione seconda cosa questa invece è importante quello che viene esportato della composizione è quello che si trova all'interno della barra della preview cioè di questa barra qua sopra tutto ciò che si trova tra l'inizio e la fine della barra viene esportato ciò che è fuori non viene esportato nel caso di questa composizione io non devo esportare tutti quanti i 30 secondi ma voglio esportare appunto come è impostato qua cioè fino al termine della dissolvenza finale a bianco i frame che vengono dopo non li voglio esportare quindi limito la barra della preview a questo frame qua bene adesso possiamo lanciare l'esportazione per fare ciò si va nel menu file alla voce export add to adobe media encoder queue e cosa succede attivando questa voce adesso io lo faccio succede che viene automaticamente aperto un altro software indipendente da after effects che si chiama appunto media encoder è un software che chi ha after effects nel computer dovrebbe avere installato e questo software si preoccuperà di creare il file finale durante l'esportazione e dopo che si è aperto media encoder ecco adesso si è aperto vi dovrebbe comparire anche la composizione che volete esportare nel mio caso esercizio 02 finale bene adesso imposteremo tutti i settings per l'esportazione innanzitutto decidiamo dove andiamo a salvare il file e per fare questo sotto la colonna output file fate un doppio clic qua doppio clic si apre la finestra per il salvataggio per quanto riguarda il nome after effects assegna automaticamente il nome della composizione quindi nel mio caso esercizio 02 finale e io lascio questo e invece per quanto riguarda il luogo di salvataggio io vi consiglierei di salvarla nello stesso luogo dove si trova il progetto su cui state lavorando quindi io il progetto esercizio 02 ce l'ho all'interno della cartella esercizio 02 e vi consiglio anche di creare una cartella apposta io la creo e chiamatela come volete io di solito la chiamo render che contiene tutte le esportazioni legate a quel progetto bene ho creato la cartella render e qui adesso salvo l'esercizio 02 benissimo questo è il primo passaggio il secondo andiamo a assegnargli il formato mp4 questo lo potete fare direttamente qui nella parte sinistra dove nel mio caso c'è scritto h.264 voi cliccate su quel triangolo a fianco e vi compare una lista dei formati che avete a disposizione per l'esportazione l'mp4 non confondetelo mi raccomando con l'mpeg 4 che è un altro formato che non c'entra quello che serve a noi è appunto questo l'h.264 che è il nome tecnico e non confondetelo neanche con l'h.264 blu-ray che serve appunto per la codifica dei blu-ray quindi questo è il formato e le impostazioni da dare per modificare il risultato finale invece le attiviamo cliccando sotto la colonna preset questa voce che c'è qui adesso voi non preoccupatevi di quello che c'è scritto nel mio caso quindi doppio clic qui e dopo qualche secondo si apre una nuova finestra eccola qui dove adesso noi daremo tutte quante le impostazioni allora guardiamo qui nella parte destra c'è il menu format dove è possibile di nuovo riscegliere i formati ma noi questo l'abbiamo già dato bene poi scendete qua sotto potete decidere se esportare la parte video e la parte audio oppure solo video o solo audio in questo caso io esporto sia il video sia l'audio perché c'è anche l'audio nella mia composizione bene adesso mettiamo a posto i settings della parte video quindi qui nella parte intermedia dei settings cliccate sul bottone video e impostiamo la larghezza e i fotogrammi al secondo eccetera eccetera allora potete farlo manualmente mettendo voi i valori oppure per avere gli stessi settings della composizione in After Effects basta cliccare su questo bottone Match Source e io infatti lo faccio subito naturalmente una verifica la facciamo allora 1920 di larghezza e 1080 di altezza giusto 25 fotogrammi al secondo fotogrammi pieni e non interlacciati quindi progressive i pixel li voglio quadrati square pixel lo standard e pal d'accordo perché sono 25 fotogrammi al secondo profilo e level invece non sono impostazioni di After Effects ma sono già delle impostazioni del formato MP4 ecco qui tolgo la spunta perché voglio correggere allora non voglio main ma voglio high un profilo più alto e come livello 4.1 va bene potete anche mettere se volete 4.2 bene questo è semplice adesso scendiamo nella parte sottostante che è quella più importante per quanto riguarda la qualità della codifica allora incominciamo dalla prima voce bitrate encoding vediamo cosa abbiamo a disposizione il primo non prendetelo neppure in considerazione al momento ho impostato un pass che va benissimo due pass sappiate che è ancora meglio la differenza tra un pass e due pass che due pass ci impiega il doppio del tempo a codificare il video però lo fa con maggiore cura quindi il risultato finale è un po' migliore quindi posso consigliarvi questa cosa se non avete fretta di creare il video potete aspettare anche un po' di più io vi consiglio di mettere due pass il video viene meglio se invece avete fretta di avere il video più presto possibile allora può andar bene anche un pass bene adesso l'impostazione più importante di tutte che è il target bitrate ora per capire meglio cosa succede se io cambio questo valore guardate nella parte bassa dove c'è scritto estimated file size al momento con questa impostazione di 10 megabit per secondo il file finale avrà una grandezza di 32 megabyte se io dimezzo questo valore da 10 lo porto a 5 vedete che si dimezzerà anche la grandezza finale del file 16 quindi aumentando o diminuendo questo valore target bitrate aumenta o diminuisce il peso del file e quindi anche la qualità la vera qualità finale del video qual è il numero giusto da impostare qui naturalmente dipende da voi se volete una cosa di alta o bassa qualità però sappiate per esempio che per un file di dimensione 1920x1080 youtube consiglia un target bitrate di 8 quindi io mi attengo a ciò che consiglia youtube 8 che è comunque una discreta qualità bene e con 8 megabit al secondo avrò un file di dimensione 26 megabyte adesso passiamo al maximum bitrate se io l'aumento o lo diminuisco proviamo a aumentarlo notate che comunque il file sarà sempre di 26 megabyte sempre non cambia quindi questo valore qui non è importante come il target bitrate io solitamente lo metto dello stesso valore del target bitrate c'è chi lo mette al doppio o comunque più del target bitrate ripeto io di solito lo metto uguale ma si può mettere anche di più benissimo andiamo avanti l'ultima cosa è questo advanced settings che al momento non è spuntato io solitamente lo accendo e gli assegno un valore di 75 vi spiego cosa significa i keyframe attenzione non sono i keyframe delle animazioni di after effects sono i keyframe della codifica dell'MP4 vanno misurati in secondi cioè dovete stabilire ogni quanti secondi viene creato appunto questo keyframe di MP4 dicendo 75 io ho impostato un keyframe ogni 3 secondi perché questo numero imposta i frame 75 frame sono 3 secondi perché noi lavoriamo a 25 fotogrammi a un secondo come c'è scritto lassù in cima nel framerate quindi ripeto 25 per 375 significa 3 secondi bene a questo punto le impostazioni video sono a posto adesso ci occupiamo delle impostazioni audio quindi clicco sulla voce audio lasciamo come audio format a AC il sample rate si lasciamolo a 48 se la musica è stereo lasciamo stereo la qualità alta va benissimo e come bitrate settings che è un po' l'equivalente del target bitrate della parte video io lo lascio sempre al massimo e noi qui abbiamo a disposizione appunto da 16 a 320 e 320 è il massimo vi consiglio di non scendere sotto i 128 perché altrimenti l'audio comincia a deteriorarsi parecchio poi si sente male bene data l'impostazione audio a questo punto abbiamo terminato le altre cose non ci interessano do l'ok ultima cosa da fare è lanciare la vera e propria esportazione e per farlo bisogna cliccare sul pulsante verde facciamolo subito qua nella parte bassa ho un'anteprima del render frame per frame e questa barra azzurra mi indica a che punto dell'esportazione sono arrivato quando questa barra azzurra sarà arrivata qui in fondo a destra l'esportazione sarà terminata bene adesso io mi fermo un attimo con la registrazione ci vediamo quando l'esportazione sarà quasi terminata eccoci di nuovo l'esportazione sta per finire è finita bene adesso andiamo a controllare come è venuto il video quindi andiamo nella cartella render eccolo qui esercizio lo lancio quindi come potete vedere la qualità è molto buona ma il file comunque rimane molto leggero perché 26 megabyte per 30 secondi è comunque una buona compressione bene quindi per oggi ci fermiamo qui e ci vediamo alla prossima ciao ciao